e salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video tutorial fino a poco tempo fa quando si rompeva un tubo dell'acqua o andava via la corrente senza un reale motivo dovevi affidarti per forza di cose a qualche tuo parente o trovare sulle famose pagine gialle un professionista della zona in grado di risolverti il problema nel minor tempo possibile adesso grazie all'avvento di internet le cose sono cambiate è possibile trovare professionisti online attraverso dei servizi creati appositamente per questo scopo ti consiglio di guardare questo video fino alla fine e se lo troverai interessante mi farebbe piacere avere il tuo supporto lasciando un semplice mi piace ed iscrivendoti al canale attivando la campanella delle notifiche presente lì di fianco così da non perderti i miei prossimi video senza girarci troppo intorno e dire di partire non mi resta che augurarti una buona visione come ho detto precedentemente con l'avvento di internet quasi tutti i professionisti sono reperibili tramite un sito web pagine personali o elenchi telefonici in questo video vi mostrerò i 5 migliori siti per trovare professionisti online come ad esempio elettricisti muratori idraulici imbianchini e tanti altri il primo servizio che vi consiglio si chiama pronto pro per utilizzare questo servizio dovete prima di tutto accedere al sito una volta fatto digitate nella barra di ricerca presente al centro dello schermo il professionista che state cercando ad esempio l'idraulico e l'indirizzo della vostra abitazione cliccate poi sul pulsante cerca per avviare la ricerca terminata la ricerca vi uscirà un elenco con tutti i professionisti presenti in zona sulla destra dello schermo troverete il tasto vai al profilo che una volta premuto vi reindirizzerà sul profilo del professionista il profilo lo si può vedere come una sorta di curriculum al suo interno sono presenti i lavori completati dal professionista le recensioni dei clienti le informazioni personali e tanto altro se hai la necessità di fare qualche domanda al professionista o chiedere un preventivo potete utilizzare gli appositi pulsanti presenti sulla destra è completamente gratuito non preoccuparti una volta scelto il preventivo giusto verrete ricontattati dal professionista e dovrete semplicemente fissare l'appuntamento concordando giorno e ora oltre al sito pronto pro è disponibile sotto forma di app sia su android che su ios un altro servizio che vi consiglio assolutamente si chiama insta pro questo sito è molto simile al precedente ne parlerò quindi in maniera più sintetica prima di tutto accedete al sito subito dopo bisognerà digitare nella barra di ricerca presente al centro dello schermo il lavoro che devi realizzare ad esempio una ristrutturazione di casa e poi cliccare sul tasto trova un professionista dopodiché bisognerà fornire maggiori dettagli sul tipo di lavoro da eseguire una volta fatto è necessario registrarsi al sito per poter inviare o richiedere un preventivo una volta scelto il preventivo giusto verrete ricontattati dal professionista così da concordare l'ora e il giorno per eseguire lavori se i servizi precedenti non vi hanno soddisfatto e non avete dunque trovato il professionista per il vostro lavoro potete dare uno sguardo a quest'altro sito che si chiama pronto professionista anche qui il funzionamento del sito è del tutto simile ai precedenti al centro dello schermo è presente una barra di ricerca divisa in due parti in cui in una bisogna inserire il lavoro da realizzare o il professionista da cercare e nell'altra la città o la provincia desiderata per avviare la ricerca è sufficiente cliccare su ricerca un altro servizio in grado di offrire un'ampia scelta di professionisti si chiama Ernesto questo sito così come i precedenti ha una barra di ricerca presente al centro dello schermo all'interno della quale bisogna digitare il servizio che si sta cercando ad esempio l'elettricista e poi bisognerà cliccare sul pulsante cerca per avviare la ricerca fornite tutte le informazioni sul tipo di lavoro da eseguire inserite l'indirizzo della vostra abitazione email e numero di cellulare così da poter essere contattati dai professionisti della tua zona mettiti d'accordo con il professionista migliore e porta a termine il lavoro Ernesto è disponibile sotto forma di applicazione scaricabile gratuitamente sia su android che su ios il quinto ed ultimo servizio di questo video si chiama pagine gialle sicuramente lo conoscere già in quanto fino a poco tempo fa era disponibile sotto forma di libro adesso con l'avvento di nuove tecnologie hanno deciso di passare direttamente online questo sito è praticamente simile ai precedenti ma a differenza degli altri non si può chiedere un preventivo o delle informazioni direttamente dal pc ma solo alzando la cornetta in pratica questo servizio vi fornirà un elenco dei professionisti presenti in zona con tanto di numero di cellulare quindi vi basterà inserire il nome del professionista selezionare la città o la provincia e cliccare sul pulsante cerca così facendo visualizzerete l'elenco completo dei professionisti presenti in zona detto ciò ragazzi il video è giunto al termine vi ricordo di lasciare un bel mi piace commentare se qualcosa non vi è chiaro e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche presenti lì di fianco così da non perderti i miei prossimi video se vuoi rimanere sempre aggiornato unisciti al nostro canale telegram e seguimi su instagram con questo il video è giunto al termine ci vediamo ad un prossimo video ciao